Ciao a tutti ragazzi Vedete qualcosa? No, infatti Se ne è appena andata la luce qua Ed è molto strano Perciò possiamo rimanere solo così Probabilmente siamo fuori Guardate dentro Vi faccio vedere E' tutto Ma proprio tutto spento Allora appena ritorno Queste due lampi si accendono Quello funziona Guardate si bloccava mezz'aria Avevo una televisione accesa E' rimasto così Poi là è tutto buio Speriamo che torni presto E qui c'è una connessione Guardate, guardate Fortuna che abbiamo la luce del coso Guardate, guardate Del mio telefono Per fortuna Guardate ragazzi Visto che luce? Guardate Siamo in pigiama Leggete tutto Leggete Ok Guardate c'è un messaggio segreto Anadleto Sì Ok Ritorniamo fuori Anche se non è Non si vede molto Quella là è la nostra luce Che bella Uh Che carriarito Io pensavo che il camion era venuto A dargli E ormai mi sono bagnato Tutte le sapatte Mi sono bagnato le sapatte Prima o poi la luce ritornerà Prima o poi Ma io non posso andare dentro Le sapatte bagnate Guardate qua Che sto facendo Non vedo Non vedete niente Perché Ho più Ho perso Io abbiamo tutte le nostre Tante Non che vi interessi Però Torniamo un'altra La lente Sembra un'esplorazione Di una casa infestata Per esempio Quando è tutto buio Poi Col vento Di sicuro Comunque Guardate là ci sono altre persone Stranissimo Appena torno alla connessione Pubblico questo video Se tornerà mai Se no Non la puoi mai Salve hai citato un po' di connessione Guarda Fai vedere qua Voglio vedere cosa Che c'è Intanto è tutto asciutto Ma c'è il 67% Si vede un po' di più Guardate là Una bella macchina Stranamente sono usciti Ma perché sei in macchina Ora c'è un po' di gambele Vabbè stanotte lo mando il video Sperando che torni a connessione No perché stanotte non torna Per tutta la notte non torna Ok dai Cominiamo nella casa infestata Stranamente Stranamente lo mandiamo nel balcone Eh? Stranamente lo mandiamo nel balcone Il problema Il problema Il problema è che quando si riaccende la luce Si riaccende Beh Condizionatore Le due lampade Il televisore Perciò Un fuoco La candela La tieni tu mamma La tieni tu Perciò io La scelta Quindi Come La fondi mia madre Mia madre Mio fratello Ma che ti bruci Ma non c'è No Che L'ho fatto La mia Infarto Che non è che non Ti ho creata Vabbè Comunque Lei è mia madre Che dice L'arrivava Anghiere L'arrivava 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 No dai Perché È un fatto straordinario Quello è l'orario Guardate Se mette a fuoco Ve lo faccio vedere No Le undici Sono le undici di sera Speriamo che non si spegni Perché se ci corrighiamo Praticamente Poi si riaccende Abbiamo la candela Abbiamo la candela Ma ma Adesso la bruci tutto Che è vivo È viva Ancora la nostra scena È qua fuori Pepsi Questa è l'altra parte Così Così Ok Vedete Non so come riesco a farlo Però Così devo fare Ok Vedete Fino a quella casa Arriva là sotto Non più E ci sono gli allarmi Gli antifurco delle casse Che continuano Ora ho smesso Non capisco il perché Sperando che la luce torni presto Ma non è mai detto Vediamo Vediamo No Si accende la lucina Aspetta un secondo Non si sa mai Meglio controllare Infatti qui è tutto attivato Venga la luce No Perché qua Se non riesco a fare un po' il video Sì Abbiamo la candela Allora Non lascia Sai Mi sa che Oh Penso di pubblicare Due video diversi Cioè metto poi parte 1 Parte 2 Così Ok Per farvi vedere Questa è la tecnica Ok Ah c'è il silenzio totale Ed è stranissimo Là c'è una montagna Esattamente da quel lato Ma non si vede proprio E infatti Hai finito Che stai consumando la doccia Minimilmente Raga Raga Ritorniamo Nel balcone Della Dell'altra parte Allora I nostri poveri tablet Il bello è che stavo giocando a 60 second Io mi stavo guardando i video Guardate Giorno 15 E mi dice Connessione Ti vuoi connettere un'altra connessione? Il bello questo sta dicendo il tablet Comunque Allora Vi faccio vedere un po' la zona là Questo è il massimo che vi posso far vedere Scusate Se c'è una luce Fichissimo l'effetto Vediamola Fichissimo È la luce del mio Guardate Sembra È il mio farro praticamente Comunque Bruci Bruci le persone Guarda Guardate qua sotto Bruciami Sono morto Allora guardate qua sotto Queste sono le macchine Voi vedete poco l'illuminato Ma Così Ma se io le passi la luce Ora la devo 5 secondi Non vedrete più È tutto bui Non si vede niente 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 Non si vede niente Ha un palmo Allora si vede Proprio pochissimo Si vede un palmo della propria mano Proprio Dal proprio naso Così Questo è il massimo Se io faccio così Stacco la luce qua Stacco la luce nel video Guardate Se levo la luce Io qua Se posso Nella sanzetta Non vedo